Il Venezia si impone per 2 a 1 nel derby Veneto contro il Cittadella, primo dei due posticipi della 32esima giornata di Serie B. Un successo che consente alla compagine lagunare di hissarsi al sesto posto con 49 punti, a meno uno proprio dal Cittadella in piena corsa per i play-off. Primo tempo spettacolare, Venezia in vantaggio al 29esimo minuto, grazie all'ex Litteri, su assist di Geglio. Poi un palo per parte con Garofalo e Strizzolo. Il Venezia fallisce anche un rigore con Ventivoglio. Nella ripresa il Cittadella trova il pareggio al 63esimo minuto con Arrigini su assist di Schenetti. Al 73esimo minuto, però, il Venezia trova il gol della vittoria con un preciso piatto destro di Geglio su assist di Falzerano. Nel finale concitato e spulso per proteste il tecnico del Venezia, Inzaghi. La classifica La rivincita di Tavano, a 38 anni è il cannoniere più prolifico della serie C.